Il liceo Alfano I di Salerno è stato scelto come scuola tra le scuole della regione campania, unica nel salernitano, partecipando al bando del Forum Universale delle Culture 2013 e dell'UNESCO, motivo di grande soddisfazione per tutto lo staff. Certo, non solo perché siamo stati l'unica scuola campana non napoletana ad essere selezionati, ma anche perché questa nostra è una sfida, la sfida di una città che si riconosce come parte importante nella nostra regione e che sente Napoli non come una possibile alternativa, ma come un punto di riferimento significativo sia dal punto di vista istituzionale, perché sede del Parlamento regionale, ma anche dal punto di vista culturale perché apparteniamo a questa storia comune. E dunque la sfida dei nostri studenti e del nostro liceo è stata quella di raccogliere parte della tradizione napoletana nella canzone e nella danza e restituirla attraverso un cortometraggio e poi uno spot che diffonderanno l'immagine di Napoli nel mondo. E li vedremo esibirsi già prossimamente il 10 ottobre? Sì, cominceremo venerdì 10 ottobre alle 8 al Circolo Cannottieri di Napoli dove avremo un concerto del nostro ensemble di musica napoletana. Era questa l'ultima notizia dalla redazione d'Italia 2 di Salerno e tutto, vi ringraziamo per averci seguito. A voi la linea studio.